L'addio al celibato finisce in carcere, titolava così Libertà il 27 settembre 2011 per raccontare le intemperanze di un ragazzo prossimo al matrimonio che aveva festeggiato insieme agli amici ed era stato sorpreso dai carabinieri mentre viaggiava in auto contro mano in una via del centro. Avrebbe poi rischiato di schiantarsi contro la gazzella dei carabinieri e avrebbe picchiato i militari. Il ragazzo, allora 28enne, fu arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, patteggiò sei mesi e pagò 2.500 euro. Dopo l'arresto dei carabinieri della caserma Levante, il protagonista di quella notta taccia ora racconta un'altra verità. L'appuntato Montella mi tirò giù dalla macchina di forza, mi ammanettò e mi prese a spintoni e calci, poi in caserma mi riempirono di botte per un quarto d'ora, ha raccontato a Libertà. Dopo due notti in cella di sicurezza in via Beverora, il giovane nel 2011 venne processato. I carabinieri arrivarono fasciati in tribunale, sembrava che fossi stato io a picchiarli, ma non è andata così, non ho mai denunciato perché avevo paura. Il 37enne è difeso dall'avvocato Antonino Rossi, che ora sta valutando insieme all'assistito se chiedere una revisione del processo. L'avvocato Rossi difende anche il giovane albanese che il 3 aprile del 2020 è stato arrestato perché in casa sua sono stati trovati 1,4 kg di marijuana e in questo caso il legale non ha dubbi. Abbiamo presentato una denuncia per abuso di autorità, minacce aggravate, violenza privata e falso. Il mio assistito, dice, è stato picchiato agli anziani genitori minacciati e tutte le circostanze evidenziate nel verbale di arresto sono state inventate. Tutti i carabinieri arrestati intanto restano in carcere. Il giudice Luca Milani, dopo gli interrogatori di garanzia, ha rifiutato le richieste dei legali per la revoca o la sostituzione delle misure cautelari. È costata cara invece l'intervista rilasciata a una tv nazionale dal cortile di casa da uno degli indagati sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di comunicare all'esterno. Per lui si sono aperte le porte del carcere.